E parliamo di nuove tecnologie che vanno in soccorso del territorio, soprattutto per il monitoraggio in caso di eventi sismici. Un progetto nazionale per il quale è stato scelto come luogo di sperimentazione il Ponte delle Torri di Spoleto. Ci dice di cosa si tratta Alessandro Buscemi. Droni e alta tecnologia per studiare il Ponte delle Torri e salva guardarlo in caso di eventi sismici. Il sito Spoletino è stato infatti scelto come test site nell'ambito del progetto Roma, che ha l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza del territorio attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche e strumenti di analisi efficaci per supportare le amministrazioni locali nella gestione delle emergenze ambientali. E così il Ponte sarà oggetto di un avanzato sistema di monitoraggio sismico per il controllo e la salvaguardia del monumento. Sarà l'Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, a valutarne la vulnerabilità sismica attraverso i rilievi radar con un sistema satellitare per osservarne le deformazioni nel tempo. L'uso di droni, poi con telecamere per avere nel dettaglio la mappatura delle lesioni, è attraverso la rete sismica locale. I dati saranno impiegati per la realizzazione di un database della sismicità. Le conoscenze acquisite dall'Enea potranno poi essere messe a disposizione di altri siti del patrimonio culturale italiano.